e tra l'altro prima di salutarci Claudia ha deciso anche di farci un piccolo regalo un piccolo grande regalo ok Eula? allora l'ho preparato all'ultimo momento io quando ero sull'isola soprattutto quando ero da sola ai lavori forzati mi davo la carica per trovare sti cavoli di 5 sacchetti a scavare ste forze guarda ho scavato la forza prima del tempo mi davo carica cantando una canzone prima perché insomma era difficile e mi piace rifarlo adesso qui come lo facevo da sola sull'isola e mi piacerebbe che ci fossero anche le mie amiche perché forse è il nostro motto il nostro motto è che nonostante tutto quello che ci diranno contro i vicini di casa i parenti i finti amici i pacchettoni noi siamo qui siamo orgogliosi di quello che siamo e nessuno ci modificherà perché noi nonostante loro sopravviveremo e nessuno ci modificherà 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti